La scuola ti sta facendo impazzire? Allora molto probabilmente sei un cattivo studente! Grazie per il pazzaggio! Ci vediamo! Occidenti! Ma per gli altri è tutta una questione di dettagli! L'autobus ti ha messo una vita! Ma sono qui! Meno male! Joy è qui! Che bravo studente! Al contrario di Olivia! Che non è nemmeno qui! Iniziamo! Come arrivo al banco? Le risparmierò la fatica! Ci è mancato poco! No! Era tutto così perfetto! Sono solo matite! Rilassati! Cosa mi sono persa? Come se prestassi attenzione di solito! Un altro lunedì! Ma stiamo scherzando! Ma tu lo sapevi! Non si parla! Non so le risposte! Beh, indovinerò! Mi bocceranno di sicuro! È la B o la C? Posso sceglierle entrambe? Che fastidio! Eh no! Di sicuro non è questa! Risposte a me! Niente da fare! Ti spiace? Joessa ha tutte le risposte, eh? Sei troppo vicina per i miei gusti! Antipatico! Non vedo se fai così! Se ti fermassi un attimo! E dai! Non posso andare male! È più facile di quanto credessi! Ed è così che si fa! Evviva! Bene ragazzi! Tempo scaduto! Che bel test, prof! Come no! Adesso ho tanto lavoro da fare! Oh! È esilarante! L'attesa mi sta uccidendo! Ben fatto! Un dieci meno! Faccio schifo! Ed ecco la mia innesima insufficienza! No! Posso fare una piccola modifica però! Sì sì! Continui a dormire! Preso! Così diventerò una secchiona! Bastano due righe! E sono un genio! Anch'io sono intelligente! La mia vita è rovinata! Cosa? Olivia è andata meglio di me! Non può essere! Non potrò più farmi vedere in giro! Vado a piangermi addosso in bagno! È mercoledì! Disinfettiamo! Già, molto meglio! Strambo! Prendo le matite Il libro Oh! Quasi dimenticavo! Non si mastica la gomma in classe! Lo sai che quel coso non ti serve! Puoi metterla qua sotto! Cosa? Ma che schifo! Oh! Ma là sotto ci sono i tuoi capelli! Ehi! Dammi una matita! Non vuoi romperla, vero? Se non è così cattiva! Farebbe meglio a masticare la gomma! È di mia proprietà! E sto per mangiarsela tutta! Ridammela! Tieni! No, non la tocco! Ci saranno miliardi di batteri! Disgustoso! Ok! Concentriamoci! Olivia! Sai che è un banco, non è vero? E quindi? Qualcuno le dia qualcosa da masticare! Pensi che siano ancora buone? Ma... Non so, ho un problemino! Strice numero tre! Vediamo! E verde sia! Sono pronto! Troppa carta! Vabbè! Olivia! Ma da dove sbuchi? Quello lo prendo io! Ma non ha preso l'evidenziatore! Ehi! Oh? E dai! Ecco! Non voglio inciampare! Che stupido! A dopo! Olivia! Mi stava facendo fare tardi! Una mela al giorno! I popcorn sono più buoni con un bel film! Ma questo aiuterà! Dimmi tutto! Ma no! Ma avevi detto che era single! Gli chiederò di uscire! Ma sì! Certo! No! Non sono stupida, Anna! Ciao! Ehm, prof! Ho un'altra mela per lei! Ma che caro! Ma avrei preferito una banana! Mi vuole avvelenare? Sei in guai grossi, ragazzino! Ma cos'è successo? Il sale di Olivia! Hai rovinato tutto! Mi dispiace! Che esagerato! Sto per perdere la pazienza! Non ce la faccio più! Dunque, chi vuole rispondere? C'è il gamè! Ma sono invisibile! Io so la risposta, dai! Niente contatto visivo! Io, io, io! Scegliamo Olivia questa volta! Ma Joyce ha la risposta! Infatti! E dai! No! Non chiami Joey! Sto piangendo, vede! Poverino! Va bene, Joey! Ok! Ma che fatica! Arrivo! Qualcuno mi avrà visto! Oh! Colpa mia! È un vero onore! Ed ecco quello che stavate tutti aspettando! Grazie, Joey! È stato un piacere! Ora basta! Vatti a sedere! Vai! Questa è la mia clatte! Oh mio Dio! Ma non va via! Hai risposto? Adesso siediti! Sì! Sei stato veramente bravo! Ups! Ti ho preso una cosa! Al posto di quella che ho mangiocchiato! Grazie, Olivia! Che gentile! Forse mi sbagliavo sul suo conto! Penso di amarla! Non posso credere di aver perso l'autobus! Ehi, Olivia! Ti serve un passaggio? Prima il casco! Va bene! Preparati per un bel giro! A chi assomigli di più? A Olivia, la cattiva studentessa, o a Joey, il secchione? O forse sei un po' entrambi! Facci sapere e condividi questo video con i tuoi amici per farli divertire!